Ehi ragazzi, come state? Sono Cloud da Final Fantasy VII in poche parole, la serie che Marco Merrino ha mandato a fare in culo e sono qui oggi insieme al mio caro amico Barret Ehi! Oggi siamo qui per fare un reaction video e il video al quale reagiremo sarà l'evocazione di Ramù mostrata da poco nella demo di Final Fantasy XV Anche nel nostro gioco c'è Ramù, quindi pensavamo fosse figo farci un video In più, Barret è nero, quindi avremo un'opinione da un punto di vista differente Non ti sembra razzista al 150% sta cosa? Ah 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 ah, caro Barret, il fatto è che lo è Via col video! Wow! Eh già, guarda un po' Quindi in questo gioco devi battere Mammoth? No, no, ecco, hai visto, c'è il personaggio Hai visto? Si chiama Noctis Wow, io nuvola, squall burrasca, lui notte Alla squall forse sono fan del meteo Sicuro Wow, che succede? Te l'ho detto, l'amavano davvero il meteo Sì, ma prima... Wow! Che cazzo? Mamma mia, Claudio, che cazzo è quello? Non lo so, bro Che cazzo è quello? Non lo so, bro Che cazzo è quello? Non lo so, porco Ramù, non lo so! Wow! Mamma mia, che sto facendo? Che sto facendo? Sta prendendo i tuoni! Che cazzo significa? Ora lo lancia, ti prego, ti prego Lo lancio, lo vedo, ora lo lancia Lo lancia Non ci credo! Che cazzo è il mio nuovo Dio! Pazzia, mamma mia, è pazzia! Il mio nuovo Dio, rinuncio a Dio per questo nuovo Dio! Dai! Namu! Cazzo! Sei tu? Il nostro controllo! Mamma mia! No! No! Non lo so, per where? No! No! I know now I know why the tales are told I know why the tales are told Dico, i giochi vecchi anche se non hanno una bella grafica Sono sempre avanti, no? Cloud? Cloud, dai! Maret? Eh, dimmi! Mi sento una minchia piccolissima! Ahahahah! Grazie a tutti.